Allora, nel conto, non so se avete visto, ci sono un gruppo d'attrati a riprendere questa giornata Lì trovati sulla parte... Facciamo parte un po' di attività per divertire, che signora ci verrebbe? Allora, Simo! E' la sua prima... E' la sua prima... Vieni il gruppo e c'è i 16! Vieni il gruppo e c'è i 16! Grazie a tutti. Grazie a tutti.